la partita che vale una stagione, c'è anche un po' di ansia in percentuale maggiore rispetto alle ultime partite. L'Arezzo ti chiedo con come ci arriva anche dal punto di vista degli infortunati perché hai avuto molti assenti nell'ultimo periodo, Martínez però potrebbe recuperare anche se in extremis è così? Sicuramente è un'attesa un po' diversa perché credo che domani siamo al capolineo nel senso che è la penultima giornata quindi abbiamo questo punto di vantaggi, dobbiamo cercare di vincere la partita in tutti i modi perché ci permetterebbe credo di poter agguantare la salvezza diretta e di magari andare a giocare l'ultima partita con un pochino più di serenità. Per quanto riguarda le defiezioni, abbiamo qualche giocatore che non sta al meglio però speriamo di poterli recuperare per domani perché sia Martínez che Bianchini potrebbero essere disponibili. Vediamo, è una decisione che spetterà l'ultimo. Al vera della tecnica, della tattica, credo che domani conterà molto l'approccio, il carattere, il cuore, la voglia di farcela a tutti i costi. Lui hai sottolineato poco fa anche in conferenza stampa, vuoi rivedere quella cattiveria che nell'ultimo mese forse è un po' venuta a me. Ma è venuta a meno, credo che nell'ultimo quattro partite abbiamo raccolto poco perché due sono pareggi, abbiamo perso a Castarione e a Flaminia, forse credo che Flaminia all'ultimo 20 minuti ci abbiamo messo un pochino del nostro, questo mi dispiace perché credo che durante le altre partite la squadra, al di là delle situazioni che si era venuta a creare un pochino meno rispetto alle altre volte, la voglia, la volontà, la cattiveria c'era stata. Domenica, agli ultimi 20 minuti, secondo me, siamo stati un pochino troppo blandi, un pochino troppo molli. Abbiamo permesso a Flaminia di ribaltare il risultato a un quarto alla fine che sicuramente non ci permette, ripeto, di poter affrontare queste partite con un vantaggio in più. Il Lanciotto è in fondo alla classifica, rischia anche di non fare i play-out e di retrocedere direttamente. Credi che potrebbero bastare quattro punti al Lanciotto per agguantare gli spareggi o ne servono sei? Questo è anche la luce dell'atteggiamento tattico che potrebbe avere domani la squadra fiorentina. Io faccio i conti in casa mia perché noi credo che dobbiamo cercare di vincere. Il Lanciotto sicuramente non è una squadra che ha mollato perché domenica ha pareggiato in casa con Castaregono, ha visto la partita, quindi hanno meritato il pari. Sappiamo benissimo delle difficoltà, però allo stesso tempo siamo cosci che la partita di domenica per noi vale un campionato e mi dispiacerebbe, ripeto, mi dispiacerebbe molto per i giocatori, per la società, per i tifosi che tutto il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi potesse essere vanificato in una sola partita. Perché credo che la squadra meriti, meriti per l'impegno che ha profuso in questi due mesi da quando ci sono, per la grande applicazione da parte dei giocatori, meriti di raggiungere questa salvezza per poi dare anche la possibilità alla nuova società di programmare il futuro.